Il vice-premier, la cittadinanza non è un biglietto del Luna Park, l'Italia è già oggi il paese che ne concede di più . Continua a montare la polemica politica sullo Jus Soli, dopo la richiesta di cittadinanza per i ragazzini eroi che hanno salvato i compagni sul bus del terrore dirottato a San Donato milanese Sull'argomento il governo non litiga, ma certo il più attivo è il ministro dell'interno Matteo Salvini Ieri ha fatto sapere al giovane Reimi che per avere la legge avrebbe dovuto farsi eleggere Oggi il vice-premier leghista torna alla carica, Jus Soli. Non se ne parla L'Italia è già oggi il paese che concede più cittadinanze ogni anno, non serve una nuova legge La cittadinanza è una cosa seria e arriva alla fine di un percorso di integrazione, non è un biglietto per il Luna Park Poi Salvini sottolinea, in singoli casi eccezionali si può concedere anche prima del tempo, ma la legge non cambierà Punto quanto a Reimi, il leader leghista commenta Stiamo proseguendo con tutte le verifiche del caso, spero di incontrarlo presto e ringraziarlo per il suo coraggio